Allora, visto che c'è stato questo problemino di me non è arrivato e vi ho fatto attendere Luoni Eligio e Pizzichello Luciana Scusate ma non è rispetto, la tecnologia è un suono Però almeno lo firmo davanti a voi e vi faccio, vi do l'onore di aprire la prima bottiglia di Prosecco per festeggiare Paloni di tutti gli amministratori e delle borse di scuso Ok? Ok L'ultimo è buono Eh Congratulazioni e scusate Un bacio, no? Un po' ammazzagato No Prego Però allora a questo punto, come ho detto La bottiglia per stappare, per iniziare questo piccolo rinfresco, questo piccolo ringraziamento a tutti voi Lo facciamo fare a loro Come anniversario, come anniversario Forza Ecco Forza ad aprire la bottiglia insieme al marito Grazie a tutti potete a tutti vi ringrazio di tutto scusate l'attesa ma il bello della diretta come si dice spero di non presentare mai sanremo sogno anch'io mai dire mai io sogno ma dopo questa prova sicuramente verrai già grazie grazie a tutti voi e se vi avvicinate c'è un piccolo rinfresco offerto perché è giusto ve lo meritate grazie ancora grazie e buona sacra buona festa buono tutto auguri forza grazie grazie grazie